bentornati amici abbiamo una presentazione molto interessante parleremo dei radicali liberi e del costo dei radicali liberi vedete presentazione numero 7 il costo dei radicali liberi vi darò la definizione di cosa sono i radicali liberi quanti di voi hanno sentito parlare dei radicali liberi ok vi darò per prima cosa la definizione di che cos'è un radicale libero perché molte persone ne hanno sentito parlare sembrano molto famosi sapete cosa sono bene ecco la definizione cosa sono i radicali liberi un radicale libero è un qualsiasi atomo molecola che ha un elettrone singolo spaiato nell'orbitale più esterno ed è altamente reattivo ecco la definizione capito per favore non dite di sì perché io ho dovuto fare un passo alla volta per capirla nonostante io sappia già cosa sia un radicale libero questa è la definizione standard di un radicale libero non avete ancora idea di cosa sia vero la rileggo un radicale libero è un qualsiasi atomo o molecola che ha un elettrone singolo spaiato nell'orbitale più esterno ed è altamente reattivo per favore se state prendendo appunti non scrivetevi questa definizione pur essendo una definizione vera non avrà significato per voi devo illustrarvi una parabola ora vi presenterò il signor radicale libero fingiamo che questa sia una pista da ballo e ci sono delle regole sulla pista da ballo si balla in coppia quindi questo qui balla con questo questo balla con questo qui quello balla con quello lì queste sono le regole della pista da ballo ora dalla porta arriva questo tizio con una maglietta nera con su scritto sono radicale libero quindi arriva con il petto gonfio e la maglietta nera con scritto sono radicale libero va da una delle coppie e la spinge al punto da intimidire e separare la coppia ma il radicale libero è molto molto malvagio non inizia a ballare con uno dei due individui che ha appena separato no 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 costringe ciascun individuo ad indossare la stessa maglietta che indossa lui quindi ora quanti radicali liberi abbiamo tre e ora tre radicali girano per la pista da ballo e ciascuno di loro spinge le altre coppie ora quanti radicali liberi abbiamo è esponenziale giusto quindi rovinano la festa sono dei quastafeste giusto rovinano la festa un solo radicale libero rompe rompe e rompe e ogni cosa che rompe diventa essa stessa un radicale libero capito ok ora che succede se quei due individui sono in realtà delle cellule nel vostro corpo che fanno parte della struttura di un tessuto muscolo un organo una ghiandola e se fanno parte di questa struttura o del rivestimento attorno ai vostri nervi per esempio o dei fasci dei vostri nervi cosa accade che ora in quell'area in quella struttura c'è un danno sta creando un danno sta rompendo la struttura di quell'organo in quell'area e sta creando ulteriore attività dei radicali liberi e ulteriore attività dei radicali liberi ora vi racconto la teoria dei radicali liberi la teoria scientifica dei radicali liberi dice questo la teoria dei radicali liberi e l'invecchiamento afferma che gli organismi invecchiano perché le cellule vengono danneggiate dall'azione continua dei radicali liberi nel tempo quindi in altre parole se invecchiamo è per via dell'azione dei radicali liberi ho visto in tv queste creme di bellezza per eliminare le rughe che cosa fanno cercano di contrastare l'attività di cosa dei radicali liberi cercano di contrastare l'attività dei radicali liberi ora voglio dirvi l'elemento numero uno che porta nel nostro corpo una quantità incredibile di radicali liberi ce ne sono molti e vi metteremo qui la lista principali fonti di radicali liberi voglio che prestiate attenzione alla fonte numero uno oli vegetali burro rancido e cibi fritti ora occorre specificare che tipo di olio vegetale parliamo di un olio vegetale sapete quello del supermercato in una bottiglia di plastica olio vegetale da cucina e per insalate condimenti l'avete visto l'olio vegetale olio di canola olio di semi di cotone per friggere la vostra splendida cotoletta di pollo o cose simili ok quel tipo di olio vegetale quando lo girate sull'etichetta vi dice che quante proteine contiene zero carboidrati zero grassi il 100 per cento perché è grasso e olio ok poi si arriva alla scomposizione dei grassi e scomponendo i grassi ogni singolo olio avrà una certa quantità di grassi saturi ma principalmente avrà grassi polinsaturi e poi c'è una parola in fondo cioè trans quante di voi sanno cosa significa trans ok negli acidi grassi c'è una coda e quella coda degli acidi grassi quando è in basso non è così male ma quando in alto sembra uno scorpione quelli sono i trans quando quella coda passa attraverso il processo di riscaldamento e di estrazione per rendere ad esempio i semi di cotone un olio insomma non so chi sia stata la persona intelligente che ha guardato un seme come quello di cotone ha pensato da questo ricaveremo dell'olio riuscite a immaginare il processo per ottenere l'olio da quel seme è molto complicato per certi versi il seme è esposto ad alte temperature e alta pressione per poterne estrarre l'olio attraverso quel processo la piccola coda negli acidi grassi va su e indovinate cos'è quella piccola coda il trans è come uno scorpione ed è il responsabile di una quantità incredibile di radicali liberi va nelle vostre arterie fa così crea danni ovunque ora non immaginate quante persone vengono da me mi dicono ho fatto un esame del sangue e ho il colesterolo alle stelle e io dico ok sì ma c'è un problema che problema non mangio alcun prodotto animale l'avete mai sentito prima avete mai sentito di persone che non mangiano alcun prodotto animale quindi in altre parole non assumono colesterolo ma hanno il colesterolo altissimo ora quanto colesterolo c'è negli oli vegetali 0 0 colesterolo voglio che mi seguiate attentamente l'olio vegetale a 0 colesterolo ma ai radicali liberi quando li assumete ed entrano nel vostro sistema creano un danno nelle vostre arterie dovete capire come sono fatte le vostre arterie all'interno sono migliori del teflon nulla si attacca le vostre arterie alle pareti delle vostre arterie non si attacca nulla sono meglio del teflon ma ora c'è uno scorpione che rimuove il teflon e poiché rimuove il teflon il corpo deve mandare qualcosa a rattopparlo qualcosa che sia appiccicoso e che possa somigliare alla bella superficie all'interno delle vostre arterie e quel qualcosa si chiama colesterolo perché amici se non assumete colesterolo e avete il colesterolo alle stelle lasciate che vi dica una cosa è il vostro fegato che lo sta producendo il vostro fegato sta producendo il colesterolo perché lo sta producendo per salvarvi la vita come scusa ora vi faccio una domanda in australia ci sono molti incendi guardando la tv si vedono questi incendi enormi e si vedono sempre i pompieri ci sono pompieri ovunque non importa che incendio sia si vedono sempre i pompieri ora domanda dato che ogni volta che vedete un incendio vedete sempre i pompieri dovreste quindi giungere alla conclusione che i pompieri hanno appiccato il fuoco perché sono lì per spegnerlo quindi quando diciamo wow il colesterolo è alle stelle abbassiamo il colesterolo è come dire guarda l'incendio ci sono sempre così tanti pompieri lì forse se togliessimo i pompieri chi produce quel colesterolo amici il vostro fegato e vi chiedete il perché per proteggervi dall'azione dannosa dei radicali liberi se il vostro fegato non producesse quel colesterolo l'arteria si intaserebbe in pochissimo tempo perché tutto si attaccherebbe al suo interno e dicono aspetta un attimo il punto è che allora rischi l'infarto perché accumuli colesterolo su colesterolo e alla fine si intasa tutto sì è vero è allora che il colesterolo diventa un problema perché può creare un intasamento ma perché si accumula sempre di più senza fermarsi per i danni causati dai radicali liberi e comunque ciò che vi sto dicendo sta portando nelle università australiane nelle lauree in scienze della nutrizione a cambiare i libri di testo perché un programma chiamato a current affair o qualcosa di simile su un canale televisivo in australia ha dedicato un'ora intera specificatamente a questo argomento proprio su questo ovvero che l'aumento del colesterolo nella maggioranza dei casi è una reazione del corpo ai danni dei radicali liberi e i principali colpevoli dei danni da radicali liberi sono gli oli vegetali margarine burro rancido cibi fritti le persone mi chiedono oscar so che non mangi il burro ma tra il burro e la margarina se non è rancido il burro ma il colesterolo si contiene il colesterolo è vero ma l'altro non ha colesterolo eppure porterà il vostro fegato a produrre colesterolo per via dei danni il colesterolo del burro non farà danni alle vostre arterie e lo dico io che non mangio neanche il burro ma se dovete scegliere tra margarina con zero colesterolo e burro non rancido e siete a quel punto nella vostra dieta in cui avete consapevolezza scegliete il burro ok almeno nel burro non hanno dovuto mettere del colorante per portarlo dal colore grigio al colore del burro perché quello è il colore della margarina grigio non è molto invitante vero allora è chiaro ciò di cui abbiamo parlato dei radicali liberi e degli oli quindi quali oli posso usare girateli e vedete se l'etichetta dice trans zero quale ha questa dicitura l'olio extravergine d'oliva la nuova zelanda produce l'olio d'oliva ok allora dovete prenderlo dalla nuova zelanda viene dagli spagnoli sapete qual è l'esportazione numero uno della spagna l'olio d'oliva e le persone mi dicono oscar perché promuovi l'olio d'oliva australiano o in questo caso l'olio d'oliva neozelandese o è molto semplice non fidatevi degli spagnoli quindi l'olio extravergine d'oliva lo usate lo osservate e deve riportare trans zero se prendete un olio extravergine d'oliva che riporta trans è un numero diverso da zero o molto vicino allo zero allora quell'olio è un misto o non è spremuto a freddo perché è la temperatura che risveglia lo scorpione capite cosa sto dicendo quindi se non ha zero o un numero molto vicino allo zero perché molto vicino allo zero perché a volte se usano un metodo di estrazione con l'acciaio inox e potrebbe esserci un po' di calore ma deve essere vicino allo zero ok guardate questo elemento qui è anch'esso causa di radicali liberi perché un alto consumo di prodotti di carne vi farà invecchiare più rapidamente perché per via dell'azione di cosa dei radicali liberi alcol l'alcol deve essere disintossicato dal vostro fegato c'è la fase 1 della disintossicazione quando voi assumete alcol passando dalla fase 1 alla fase 2 se le fasi non sono sincronizzate nel modo giusto c'è un accumulo un accumulo di tossine tra una fase e l'altra se non sono sincronizzate correttamente e questo produce radicali liberi danni ai tessuti danni al fegato eccetera 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 perché gli alcolisti hanno danni al fegato non è perché il fegato non riesce a filtrare l'alcol ma è per via dell'accumulo dei metaboliti tra la fase 1 e la fase 2 che causa un aumento di radicali liberi e cosa fanno i radicali liberi danni ai tessuti qual è un tessuto che sta lì il fegato e quindi smantellano il fegato ok quindi carne alcol caffèina ciò che ho detto sull'alcol applicatelo al caffè perché anche la caffeina deve passare attraverso la fase 1 e la fase 2 di disintossicazione del fegato fumo ora il fumo va a dritto nei vostri polmoni i polmoni hanno un composto di tre amminoacidi chiamato glutatione e il glutatione è immagazzinato nei vostri polmoni nonostante questo deposito si trovi nei vostri polmoni viene in realtà utilizzato per uno dei processi della fase 2 di disintossificazione del fegato quindi il glutatione viene usato dal fegato per la disintossificazione nella fase 2 ma è immagazzinato nei polmoni quindi indovinate voi fumate e quando fumate riducete le scorte di glutatione qui a cui poi il vostro fegato non ha accesso quindi avrete un accumulo di metaboliti un aumento di radicali liberi danno ai tessuti invecchiamento infiammazione morte capito ok zucchero cos'altro possiamo dire di questo elemento è un po razzista perché inizialmente lo zucchero è verde quando spremete la canna da zucchero è verde e poi se lo tostate un po diventa nero quindi penso che che tutto il processo dello zucchero sia razzista un processo razzista perché tutto deve essere bianco altre droghe principalmente per via del fegato ogni droga dovrà essere scusate dovrà essere metabolizzata dal fegato per la disintossificazione ok alcuni profumi vi dirò una cosa riguardo ai profumi dove mettete il profumo prendete la bottiglia e dove mettete il profumo sapete cosa avete qui si chiama tiroide sapete cosa fa la tiroide la tiroide è una ghiandola affamata infatti se mangiate qualcosa che contiene iodio quello iodio non avrà speranze di passare attraverso qui senza essere preso dalla tiroide che cerca perfino di estrarlo mentre nella vostra bocca attraverso le ghiandole salivari e durante il suo passaggio farà subito così assorbirà lo iodio perché le serve lo iodio come carburante ok per il metabolismo per il t4 e per il t3 che sono gli ormoni della tiroide ok e scusate dove mettete i profumi sapete una cosa che diciamo alle donne che soffrono di ipotiroidismo è di mettere il profumo sui vestiti o lasciar perdere il profumo per un po' o usare del bicarbonato sotto le ascelle ma non mettere il profumo sulla tiroide rallenta il funzionamento della tiroide volete dimagrire la vostra tiroide è ipo o malfunzionante avete una grande battaglia di fronte a voi non perderete peso perché è lei che regola il metabolismo è la tiroide che muove l'interruttore e se mettete il profumo qui l'alterate mettendo il profumo su quella parte introducete anche più radicali liberi ok sapete a volte vedo ragazzi che prendono questi spray e fanno così e penso o signore abbi pietà diabete di tipo 2 se siete affetti da diabete di tipo 2 è la patologia stessa a generare a generare radicali liberi genererà radicali liberi nelle vostre arterie quindi il ritorno del sangue dalle vostre gambe sarà alterato e qual è una delle cose che dovete controllare se avete il diabete di tipo 2 dovete controllare quotidianamente le vostre unghie dei piedi lo spazio tra le dita dei piedi perché perché potreste perdere i piedi in un attimo perché il flusso sanguigno viene ostacolato dall'azione dei radicali liberi dato che avete il diabete di tipo 2 ok bassa funzionalità tiroidea che va insieme al discorso dei profumi ma anche con un'altra cosa se qualcuno di voi si ricorda la chimica studiata a scuola o al liceo vi ricorderete che nella tavola degli elementi c'è un gruppo unito ed è il gruppo che contiene iodio fluoro e cloro come come si pronuncia cloro cloro fluoro iodio e bromo sono nello stesso gruppo perché hanno caratteristiche simili quindi ora prendo l'acqua del rubinetto di casa mia cucchiai piena di cosa cloro e fluoro almeno in australia il fluoro e la bevo cosa farà la mia tiroide con quei due elementi che hanno caratteristiche molto simili allo iodio e ricordate che lo iodio è ciò che serve alla tiroide come carburante lo assorbirà impedirà al vostro sistema di assorbire davvero lo iodio e assorbirà le cose sbagliate il cloro e il fluoro e questo farà sì che la vostra tiroide lavori più lentamente e quando il vostro metabolismo è più lento significa che i pulitori nel vostro sistema invece di essere attivi puliscono così e quando puliscono così si verificano gli accumuli di radicali liberi perché i pulitori non stanno attenti a ciò che accade intorno a loro malattie acute e croniche ogni malattia ogni malattia causa un'infiammazione acuta o cronica l'asma è un'infiammazione voglio dire causa un'infiammazione il diabete causa un'infiammazione le malattie cardiache causano un'infiammazione il lupus come si controlla se avete il lupus si controlla l'fr che è il fattore reumatoide usato anche per l'artrite reumatoide è una malattia infiammatoria ogni malattia causa infiammazione dove c'è un'infiammazione c'è l'azione di cosa dei radicali liberi i radicali liberi e l'infiammazione vanno di pari passo perché dove c'è malattia c'è infiammazione ok e questo succede anche in situazioni acute se vi slogate la caviglia cosa accade infiammazione e ci saranno i radicali liberi per via del tessuto rotto tessuto morto eccetera ci saranno i radicali liberi ok pesticidi ed insetticidi molti conservanti alimentari additivi alimentari inquinamento strato d'ozono luce solare uv gamma i raggi del sole sapete che quando viaggiate in aereo siete esposti ai raggi gamma del sole perché siete sopra a questo livello e siete più esposti ai raggi gamma ora i piloti per via di dove sono posizionati nella cabina sono maggiormente esposti e ad oggi alcune compagnie aeree hanno una scritta che riporta quante ore quel pilota ha passato in volo per via dell'esposizione ai raggi gamma e i raggi gamma prendono l'acqua nel vostro corpo e la scompongono in un modo tale da renderla per ossido di idrogeno per questo quando volate vi sentite così avete sete per via dei raggi gamma avete sete e il perossido di idrogeno all'interno sta agendo come un radicale libero spingendo ciò che ha intorno spingendo ciò che ha intorno per questo pensate di dover bere un po di più presto vi dirò nella prossima presentazione cosa potete fare quando siete in volo chemioterapia e radiazioni quelle sono di per sé delle introduzioni di radicali liberi nel vostro corpo ma guardate questo guardate l'ultimo depressione negatività disturbi mentali frustrazione sono sono così frustrato e ricevete anche una dose di radicali liberi nel frattempo sapete che le persone frustrate dimostrano più anni sapete perché perché la frustrazione la depressione la negatività il parlare degli altri tutte queste cose causano i radicali liberi infatti se iniziate a parlare male degli altri se iniziate ad essere negativi verso gli altri e negativi verso voi stessi negativi verso il vostro coniuge negativi verso i vostri figli e voi stessi diventate un radicale libero voglio vedervi alla prossima presentazione e fornirvi delle soluzioni a questo problema grazie 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 grazie